I fondi che i 52 comuni dell'area metropolitana di Roma versano al Campidoglio per poter conferire rifiuti nei siti di proprietà di Ama vanno reinvestiti come benefit ambientali direttamente sui territori che ospitano gli impianti. Lo ha deciso, dopo una lunga battaglia tra Roma Capitale e il Sesto Municipio, che ospita l'ex DMB di Roccacencia, una nuova legge regionale. Per il presidente del Sesto Municipio, Nicola Franco, si tratta di una vittoria ottenuta insieme ai cittadini e quei fondi potranno finanziare non solo le necessarie bonifiche, ma anche la riparazione e il miglioramento delle infrastrutture, oltre ad azioni di maggior repressione dei reati ambientali, che in un territorio così vasto e popolato sono ancora troppo diffusi. Diciamo che ha fatto giurisprudenza già, perché se leggete oggi i quotidiani nazionali, adesso tutti gli altri municipi di Roma stanno dicendo sia per il passato, ma anche per il presente e soprattutto per il futuro, perché bisogna ricordare che su Roma sono previste delle implementazioni per quanto riguarda le varie caratteristiche di impianti e trattamento rifiuti che insomma arriveranno. Il problema è l'80% avere impianti con i miasmi e con l'inquinamento, perché parliamo sempre di un inquinamento che sia olfattivo, che sia ambientale, ma il problema serio è tutto il resto, perché comunque sia il passaggio di camion, inquinamento che arriva, cioè le strade che si distruggono perché passano questi dirri e poi sappiamo bene che non ci sono i fondi per poterli fare. Quindi voglio dire, non ci possono essere zone di questa città che oltre il danno debbano subire anche la beffa. Quindi questa è una vittoria di tutti i cittadini e di tutte quelle zone che poi soffrono. È logico che di interventi su questo territorio per la mitigazione ambientale sicuramente non basteranno. Un territorio come il nostro, che ha un impianto dove scaricano 52 comuni dell'area metropolitana, genera costi per l'impianto e per i comuni che vengono a sversare di 300 mila euro l'anno. Noi qui veniamo definiti la terra dei fuochi, sia per il passato ma anche per il futuro, perché abbiamo terreni ancora con rifiuti ospedalieri, rifiuti tossici, che non sono stati mai bonificati. Pensate con questi fondi quante bonifiche, esempio, possiamo fare sui terreni dove noi lì ci pascolano e quindi l'inquinamento va nel ciclo alimentare, dove vanno ad inquinare quei nostri pozzi. Qui ci sono due affluenti che vanno all'acquamarcia, che sono insomma quello di Pantano e quello di Borghesiana e quindi ce la beviamo noi quell'acqua ma se la bevono anche tutti i cittadini romani e con quei pozzi annaffiamo anche le culture. Quindi voglio dire, queste sono cose che andavano fatte vent'anni fa. Noi con il Campidoglio non c'è collaborazione. I benefit ambientali sono stati un caso che hanno frizionato in maniera pesante con il Campidoglio, ma perché c'erano due visioni diverse. Il Campidoglio non voleva riconoscere che spettassero insomma direttamente ai municipi e il municipio invece li rivendicava. Questa è stata una frizione che in questo ultimo periodo magari si è trascinata pure altre cose. Il resto devo dire che con il sindaco in persona ha sempre avuto i buoni rapporti, quindi lo continuo a dire, ma anche perché rappresentiamo tutti quanti i cittadini. Non ci possiamo permettere di dividerci su questo quando si parla dell'interesse e del benessere dei nostri cittadini. L'unica cosa è che questo è il territorio, è la dodicesima città d'Italia in termini di popolazione, un territorio vastissimo, 113 km2, di cui la buona parte è agro-romano e dove abbiamo la più alta percentuale di abbandono rifiuti. Voi sapete che io sto facendo di tutto, isole ecologiche mobili, sto facendo punti di raccolta in fine settimana, cioè è una piaga qui il discorso dell'abbandono rifiuti, è una piaga all'inquinamento ed è una piaga la poca educazione che hanno i miei cittadini. I primi incivili che ci avveleniamo siamo noi e il messaggio che deve passare è di inflessibilità. Se tu non capisci che abbandonando un frigorifero, un materasso o sversando alcuni rifiuti pericolosi su un terreno non è un problema del proprietario del terreno, è anche il tuo rischio che tu ti stai avvelenando da solo. E quindi allora noi dobbiamo mettere in campo alcune azioni di bonifica il prima possibile ma anche di repressione a quelli che sono i reati di abbandono rifiuti perché è un reato e quindi dobbiamo riportare diciamo decoro e soprattutto sicurezza al territorio più bello del mondo come lo definisco io il mio municipio e su questo noi ci stiamo battendo.